Lo sapevate che Dopo 19 anni di attesa, il nuovo album di Bruce Dickinson è finalmente arrivato ed ancora una volta Lay Raid Siren spiazza e stupisce In bene, in male, questo lo deciderà il vostro cuore all'ascolto perché nessuno potrà mai dirvi cosa provare Solo la musica stessa potrà o meno sfiorarvi l'anima L'analisi che farò di questo platter sarà esclusivamente musicale Per addentrarmi nel significato e nella comprensione dei testi servono davvero molti ascolti ed una ricerca approfondita che sull'immediato è impossibile fare Afterglow of Ragnarok Afterglow of Ragnarok apre in maniera massiccia e pesante con un riff compresso e cupo ed un cantato heavy metal più che mai che arriva ad un ritornello tra i più indovinati mai scritti da Bruce Un ottimo pezzo, qui navighiamo mari conosciuti Many doors to hell cambia subito il registro umorale dell'album Un pezzo hard rock, scorpions like Sostenuto da un ritornello che sembra uscito a pie pari da Tattooed Millionaire Ti ritrovi già a canticchiarlo al primo ascolto Ci riporta un po' agli anni 80 Rain on the Graves Bruce suona ancora hard rock anche se in maniera più granitica con l'organo psichedelico di misteria che incrocia la chitarra di Roy ed un cantato ironico e sadico un po' teatrale dell'irate siren Il tiro è andante e per l'esima volta Bruce fa centro col ritornello che rimane subito in testa Chiude di nuovo un Roy Z ispiratissimo con uno dei tanti bellissimi soli di quest'album Ed eccoci davanti secondo me al primo pezzo da 90 con l'ombra del maestro Morricone dietro ma la regia di Quentin Tarantino davanti Resurrection Man parte portandoti direttamente nel West sgocciolando metallo tra le grandi pianure Un esperimento riuscitissimo con un cantato tirato che a metà si smorza per poi rallentare del tutto richiamando le sonorità di The Writing on the Wall degli Iron Maiden E poi si riparte cavalcando selvaggi le praterie oltre i grandi fiumi verso avventure senza fine Misteria sale in cattedra e le sue tastiere introducono un altro pezzo che entra subito nel sangue Finger in the Wounds è un pezzo epico, veloce e bellissimo con una linea vocale di Bruce da antologia intramezzata prima da soffici tocchi di piano e poi da una parte strumentale arabbeggiante che segna l'anima dal primo ascolto ANCORA ANCORA Adoro la canzone già nella versione meideniana mistica e catastrofica con un cantato attraente ed immediato e qui non trovo sostanziali differenze Sono sincero avrei preferito un altro inedito anche se nell'insieme del disco ci sta benissimo e si ascolta volentieri perché è davvero un gran pezzo E si ritorna all'heavy metal quello più classico con Mistress of Mercy piede sull'acceleratore con un Roy Z ancora sugli scudi davvero un Guitar Hero eccezionale Bruce qui si muove sulle strade a lui più congeniali e quando corre per le corsie del metal Light Red Siren ha pochi rivali È il momento della ballad ed ancora una volta Bruce Bruce spiazza con un pezzo che non ricorda nessuna delle precedenti composte si rallenta ma con ritmo fra chitarra acustica e pianoforte ed un cantato introspettivo, riflessivo, delicato da lunghi viaggi notturni mentre il mondo scorre via intorno a te ed i flashback ti sussurrano voci del passato che non tacciono mai Un delicato tocco di piano di misteria introduce la penultima canzone Shadows of the Gods forse la canzone più variegata di Mandrake Project Sembriamo trovarci davanti ad una ballata drammatica evocativa con un favoloso ritornello dove la voce di Bruce è splendida più che mai tra le atmosfere di tastiere e piano ma in realtà Dickinson ci spiazza ancora e ci porta da tutt'altra parte la canzone si incattivisce di brutto e Bruce ci dimostra che quando canta su tonalità aggressive sa essere ancora estremamente mordente chiude un altro giro del bellissimo chorus da sogni ancora infiniti Nata da un'improvvisazione ispirata alla Moonlight sonata di Beethoven creata da Roy stesso dopo aver visto il film Immortal Beloved ed un Bruce che ci ha cantato sopra il primo ascolto senza comporre nessuna melodia o testo L'attesa di questa canzone aveva creato in me un hype di entusiasmo elevatissimo ma dopo aver letto le prime recensioni avevo paura di trovarmi davanti a una coccente delusione non è stato assolutamente così anzi tutt'altro a me questa canzone prende dentro in fondo e lo ha fatto fin da subito da quel Save Me Now ripetuto epico, evocativo a quella parte lenta con un sound che sa tanto di The Chemical Wedding quasi sussurrata che viene dal cuore e passa attraverso l'ugola senza filtri senza la ragione come una sorta di canto dall'anima diretto senza forma senza struttura Bruce ha osato ha cercato questa volta di uscire da ogni suo schema di lasciarsi andare al solo suono delle note ed è un viaggio introspettivo e magnifico imperfetto ed umano scaleno e sognante una canzone dove è lo spirito che guida la parte più recondita profonda l'io più genuino con tutto il suo bagaglio di pregi e difetti il tutto poi esaltato da un lungo solo finale di un Roy Zeta magnifico suggestivo usignolo per le orecchie e miele per l'anima che ti porta lontano oltre e ancora oltre e che chiude un album dove Bruce ci racconta ancora storie in registri nuovi spolverando sì sempre le vecchie attitudini ma senza mai smettere di ricercare di rinnovarsi e di rinnovare The Mandrake Project è un album molto più corale dei precedenti dove spicca un Roy Zeta ispiratissimo e strepitoso alla chitarra ed il nostro maestro misteria che riesce a creare una profonda atmosfera con tocchi delicati di piano ed epiche parti strumentali soddisfatto? sì, tantissimo perché quello che io voglio da un artista di questo calibro sono nuovi sentieri mai battuti con tutto quello che ne comporta la perfezione dell'imperfezione che secondo me insonata raggiunge l'apice massimo dello stile di quest'album citando il professor Keating del divino Robin Williams andai nei boschi perché desideravo vivere con saggezza e profondità e succhiare il midollo della vita e sbaragliare tutto ciò che non era vita dei due sentieri scelsi il meno battuto per non scoprire in punto di morte che non ero vissuto grazie Bruce p.s. se c'è una cosa che mi ha davvero deluso scusa Bruce sono i due video visti finora visto che gli Iron Maiden secondo me commettendo un errore madornale proprio non ci sentono dal lato videoclip immaginatevi un video di Power Slave fra piramidi e mummie un mini corto sulla ballata del vecchio marinaio o sul condannato a morte di Hello Be The Name speravo che Bruce ci offrisse veramente qualcosa di particolare ma soprattutto cinematografico quello che ho visto purtroppo non ha niente di tutto questo una regia fiacca e poco accattivante una fotografia abbastanza dozzinale e soprattutto un montaggio privo di mordace e di invettiva Bruce, chiamami cazzo che sono 25 anni che aspetto di girarti una videoclip che valga veramente l'altezza della tua musica potrebbe essere davvero un chemical wedding il nostro siamo nati pure lo stesso giorno non ho